Le immagini che abbiamo visto in Mondragone fanno capire bene a tutti quanti quello che ho detto per mesi, che cioè affrontare il problema della epidemia in Campania era una sfida terribile. La Campania è anche questo, non è soltanto questo, ma la Campania è anche quelle cose che abbiamo visto a Mondragone in termini di degrado urbano, di tensioni sociali, di illegalità. Abbiamo dovuto fare i conti con queste realtà diffuse in tanta parte del territorio regionale. Una sfida terribile e tuttavia abbiamo affrontato i problemi, credo con grande determinazione, con grande concretezza. Oggi la Campania è una regione a contagio zero, al netto del focolaio di Mondragone. Non abbiamo più contagi in pratica. Nelle prossime settimane e i prossimi mesi dovremo fare questo lavoro difficile, snervante, ma lo faremo per garantire che la Campania rimanga a contagio zero, cioè andremo a cercare noi i contagi. Per essere chiari, la Campania non è interessata a coprire i problemi, ma è interessata a risolvere in maniera definitiva i problemi per tutelare la salute dei nostri concittadini e la serenità delle nostre famiglie. E dunque, avendo oggi una regione a contagio zero, andremo a cercare territorio per territorio, area sociale per area sociale, facendo tamponi di massa, i contagiati dove dovessero esserci. Perché dobbiamo stare assolutamente tranquilli. Quindi noi stiamo lavorando così, facendo un'operazione verità, cercare i problemi, noi, dove ci sono, per affrontarli e risolverli. Per quanto riguarda Mondragone, ovviamente, noi abbiamo lì una realtà ultra decennale rispetto alla quale sembra che nessuno abbia visto niente. Eppure un problema che avrebbe dovuto riguardare e che riguarda in primo luogo il Ministero dell'Interno, la Prefettura, la Questura, il Comune, le Forze dell'Ordine. Per dieci anni si è fatto finta di non vedere che questo problema c'è. Mi ha detto il Prefetto di Caserta che due anni fa più o meno è stato fatto un tentativo per affrontare le questioni, ma poi non se n'è fatto nulla. Bene, oggi noi interveniamo in una situazione incancrenita da dieci anni rispetto alla quale un po' tutti quanti hanno girato la testa da altre parti. Nelle palazzine in questione ci sono proprietari che hanno fatto e fanno ancora oggi fitti in nero. abbiamo trovato negli appartamenti, quando siamo andati a fare i tamponi, decine di persone ammassate, non ha visto niente nessuno. Questi lavoratori, per la parte di lavoratori che abbiamo in queste palazzine, hanno contratti regolari di lavoro, vanno a fare gli stagionari in maniera legale? Nessuno ha visto niente. Allora, noi abbiamo investito due anni e mezzo, va credo febbraio 2018, per dare una mano. Abbiamo firmato, era allora ministro dell'interno Minniti, un patto per la sicurezza rivolto per la verità all'area di Castelvolturno. Avevamo avuto una sollecitazione dal sindaco. Abbiamo investito 20 milioni di euro per dare una mano al territorio, per affrontare i problemi legati all'immigrazione, aprire centri sociali e così via. Per il resto non si è fatto niente. Questa è la realtà che abbiamo lì da dieci anni e i primi che avrebbero dovuto intervenire non hanno fatto niente, anche se qualcuno di quelli che non ha fatto niente oggi apre perfino la bocca.